Tutta l'attenzione allo stand KTM sarà focalizzata sulla nuovissima naked tutto pepe del costruttore austriaco, la 6,90 Duke, una fanbike dalla componentistica sportiva che strizza l'occhio alle linee della piccola 125. Ma le new entry della famiglia KTM continuano con l'arrivo della nuova Duke 200, un piccolo aumento di cilindrata che le permette di circolare anche su tangenziali e autostrade. Passando invece alle ruote tassellate è la nuova Freeride 350 a catturare gli sguardi degli enduristi, mentre per i più estremi KTM espone la gamma 2012 Motocross SX.